Tutti insieme, qui al centro, tutte le coppie, le coppie numero 247, 297, 299, 364, 315, 355, 373, un grande applauso per loro! Ci sono messi in gioco ragazzi, allora ragazzi i primi, prego solo a me, tutti i primi, gli altri sono pari metro classificati, in cui siamo divertiti con voi! Il terzo, numero 315, Riccardo e Federica! Terzo classificato, Riccardo e Francesca, sbagliato! Riccardo e Francesca, la copro al volo, la legna, grazie! Foto del dito, tutte! Riccardo e Francesca, sbagliato! Nel voto ragazzi domani potete guardarle su Salsa Marche Style! Passiamo al secondo classificato, la coppia numero 299, Riccardo e Bomeno! Premio Elisa! Foto del dito, grazie ragazzi! Ringraziamo il sangue, la petuta che fanno le foto, senza di voi! Ragazzi, è arrivato il momento del tremo eh! Vuoi sentire, vuoi sentire, vuoi sentire! Ragazzi, il primo classificato di una base, la numero 364, Riccardo e Alice! Ringraziamo le coppie, 355, 297, 273, 297, ci siamo diversi di con voi! Grazie!